Benvenuti nel mondo degli orologi Hamilton. Hamilton è un marchio di orologi svizzero famoso in tutto il mondo per la sua attenzione alla precisione, alla qualità dei materiali e al design innovativo. Fondata nel 1892 a Lancaster, la Hamilton è stata acquisita dalla Swatch Group, una delle più grandi aziende orologere del mondo. Gli orologi Hamilton sono noti per la loro precisione e affidabilità, grazie ai movimenti svizzeri di alta qualità utilizzati nella loro produzione. Oltre alla precisione, gli orologi Hamilton presentano spesso funzioni avanzate come il cronografo, il datario, la visualizzazione della fase lunare e la riserva di carica. Gli orologi Hamilton sono stati scelti come partner ufficiale di diversi film di successo, come Indiana Jones, Interstellar, Tenet, The Martian e Man in Black. Grazie alla loro apparizione nei film, gli orologi Hamilton sono diventati iconici e riconosciuti in tutto il mondo. La collaborazione con il mondo del cinema ha permesso al marchio di mostrare la sua capacità di soddisfare le esigenze di piloti, astronauti e agenti segreti. Ma non solo, Hamilton è nota anche per l'orologio Ventura, diventato iconico grazie all'artista Elvis Presley, che lo considerava il miglior orologio in suo possesso. Infatti, il Ventura venne visto più volte al polso del noto cantante. Il design degli orologi Hamilton è unico e innovativo, con uno stile che spazia dal classico al moderno. Gli orologi sono disponibili in diverse forme e dimensioni, e spesso presentano dettagli in acciaio inossidabile, pelle, tessuto o ceramica. Hamilton produce anche orologi da pilota e orologi da immersione, che sono diventati famosi grazie alla loro affidabilità e funzionalità. La gamma di orologi Hamilton è ampia e diversificata, e comprende modelli per uomini e donne. La collezione Kaki è caratterizzata da un design militare, la collezione Jutsmaster da un design elegante e raffinato, la collezione Ventura da un design futuristico, e infine la collezione American Classic da un design classico e sofisticato. In conclusione, Hamilton è un marchio di orologi svizzero noto per la sua attenzione alla precisione, alla qualità dei materiali e al design innovativo. Gli orologi Hamilton sono disponibili in diverse forme e dimensioni, e spesso includono funzioni avanzate come il cronografo e il datario. Il marchio ha anche una forte presenza nel mondo del cinema, grazie alla sua collaborazione con diversi film di successo. La gamma di orologi Hamilton offre una vasta scelta di colori, materiali e funzioni, permettendo ai clienti di trovare il modello perfetto per il loro stile e le loro esigenze.